Abbiamo confermato, un elemento importante è la conferma, ci sono teatri e orchestre che lavorano a singhiozzo, questa è un'iniziativa che abbiamo deciso di confermare e non è da poco confermare un'iniziativa così perché comunque è una produzione decisamente grande. Avremo l'organico sinfonico quindi non è un'orchestra ridotta come purtroppo bisogna fare in questo periodo, è l'orchestra completa e c'è tutto l'impianto di questo premio che abbiamo istituito dall'anno scorso. Un premio per essere importante deve avere dei premiati di valore e quindi noi siamo ben felici di poter dire, almeno lo dico io, che questo premio mi sembra che sia partito col piede giusto perché avere nel settore della lirica l'anno scorso Daniela Barcellona e quest'anno Mariella De Via ci pone subito ad altissimo livello. Quindi io ringrazio la signora De Via per aver accettato questo premio, sono una sorta di premio alla carriera perché non c'è uno specifico che vada a motivare questo premio. È un premio che viene dato per l'importanza della persona che ha nel nostro settore. Come categoria unica che continueremo a perseguire c'è quella del canto lirico, poi ci addentreremo nei vari mestieri diciamo del teatro e dello spettacolo dal vivo. E quindi quest'anno abbiamo scelto un grandissimo attore regista come Saverio Marconi e poi appunto la rivista di riferimento del nostro settore, la rivista che in questo momento davvero ha tenuto su assieme anche ad altri diciamo un po' anche il morale di tutto il settore è Amadeus con il direttore Paola Molfino. Quindi questi sono i tre premiati, insomma non vi nascondo la grandissima gioia nell'avere questo Parterre des Rois. Ovviamente va detto da subito che in presenza ci sarà Paola Molfino tra i premiati, mentre Mariella De Via e Saverio Marconi saranno in streaming. Avremo una trasmissione che andrà in diretta sui nostri canali social, quindi sul Facebook e sullo YouTube dell'orchestra sabato alle 20.30.